Musica Usica Musica It's purpose Onayisikiajee, with the inaccessibilityacjiわ when you think about it, they can appreciate it? Well not to say this for Muslimiliyor We really don't make this Allora, prima di tutto, come ho detto prima, e ho detto questo, penso che il mio talento, la salute e il mio essere qui è dalla grazia di Dio. Quindi ogni volta che faccio alcune cose, voglio involvere a Dio e appreciare a Dio per la grazia e la grazia. Quindi, ascoltando sui commenti, sui appreciazioni di altri giocatori, è molto incontraente, molto motivante, e anche se è molto humbligo, perché ho dovuto essere humbligo, così che Dio stesso prende la grazia. Il mio più risposto è che io voglio essere più di me. Sì, più di me. Ovviamente, lasciano arrivare gli occhi che non hanno atteggiato il football e per la vita. Il più importante è che iniziare con Dio, involvere con Dio e finire con Dio. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie.